Grazie a tutti Il Tempio è il luogo più sacro nella Bibbia Durante le festività vendere animali sacrificali e cambiare denaro è diventato molto redditizio Puoi cambiare? Sì, c'è 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 Gesù, ti prego Non è scritto Aspetta Non è forse scritto La mia casa La mia casa sarà soltanto casa di preghiera Ma voi Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri Che sei tu per dirci questo? Noi insegniamo la legge, non tu Voi in apparenza fate lunghe preghiere E avete piacere di essere sempre salutati nelle piazze Ipocriti Ipocriti Non potete servire Dio E il denaro C'è Grazie a tutti.